Siamo qui nel post-gara, Enrico Pisani, best player, giocatore decisivo, una partita difficilissima, combattuta e equilibrata. La prominenza è una spunta 5-3 grazie alle due parate e i gol di Greco. Cosa hai provato in questa partita? Anzitutto inizio col dire che non è la prestazione del single che fa la nostra una partita che è un risultato positivo, ma è stato l'insieme che ha collaborato fino all'ultimo minuto. Siamo davvero una grande squadra che si sta amalgamando giorno per giorno sempre di più e quindi possiamo puntare davvero in attesa. Complimento, una matricola del Libre, battito che è più difficile da battere. Greco, fabbricatori davanti hanno fatto lo spettacolo. Sì, soprattutto Greco oggi ha giocato davvero bene, ma anche il nostro fabbricatore che comunque nella partita anche dei Coppa d'Orei ha giocato molto bene e sicuramente sono due giocatori che possono farci fare la differenza durante il tuo torneo. Quindi si può dire che la prominenza sarà la rivelazione di questa brasilina? Penso che sia ancora affrettato di dire ciò, però comunque possiamo combattere per una buona posizione in cui il campionato. Complimenti alla prominenza e al grande portiere Rico Pisani. Grazie.